Chiojiro Sushi, ristorante di sushi qui nel centro di Kyoto in Giappone, un locale frequentato, anzi proprio frequentatissimo direi dai turisti stranieri per la facilità di ordinazione tramite questo iParty, cioè si fa tutto da qui, si visiona il menu, tutti i vari tipi di sushi divisi in categorie, ci sono anche dei set, io ho ordinato questo set da 1410 yen e poi si ordina premendo the site, si sceglie se con WhatsApp o meno e poi si ordina, ma io l'ho già ordinato quindi torno indietro ed è proprio bello perché c'è tutto il menu, anche le varie bibite, le raccomandazioni dello chef, i consigli dello chef, veramente il menu è fatto benissimo, è di una facilità inaudita, immensa direi, non c'è solo questa pagina ma ci sono varie pagine, ognuna delle categorie va a varie pagine, quindi il menu è veramente grande e la qualità del sushi è anche ottimo, direi che è uno dei ristoranti più facili, tra virgolette, per uno straniero in cui sia mai stato in Giappone, in cui i prezzi sono anche abbastanza contenuti e la qualità comunque è molto soddisfacente, molto soddisfacente. Eccolo qua, il mio set di sushi che comprende un po' di nigiri di salmone, guilla, tonno, due maichi, un po' di insalata, intanto mi riempio il bicchiere con un po' di acqua calda. Ecco, dicevo, un sushi, insalata, poi la solita zuppa di miso e quest'altra zuppa qui, che non so bene cosa sia, comunque salata, e a questo punto direi che è arrivato il momento di mangiare. . 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 Grazie a tutti.